ciao benvenuti a un nuovo tutorial sul programma di videoscrittura musicale finale l'argomento di oggi è l'impostazione guidata che è una procedura molto semplice che ci permette di facilitare la creazione di una qualsiasi partitura mi raccomando iscrivetevi al mio canale un bel mi piace al tutorial attivate la campanella buona visione e naturalmente prima la sigla eccoci qua allora come già anticipato nella presentazione vediamo come utilizzare questo procedimento di impostazione guidata per creare una struttura in maniera molto semplice di una partitura quando voi aprite il programma in genere vi appare questa finestra che si chiama finestra di avvio dove qui in alto a sinistra trovate la dicitura impostazione guidata questa finestra di avvio si può anche far uscire se tenete il finale aperto dal menu file oppure potete dal menu file fare nuovo documento con impostazione guidata come esempio imposteremo una partitura per archi e pianoforte cioè quindi uno spartito di musica da camera allora clicchiamo su impostazione guidata e si apre questa finestra allora questa finestra serve solo se vogliamo utilizzare un modello di partitura in pratica già composto se invece ne vogliamo fare uno nuovo dobbiamo andare avanti ma l'unica cosa che vi posso dire su questa pagina è che potete scegliere la dimensione pagina partitura cioè se volete creare un documento con il pentagramma sviluppato in orizzontale è qui che potete farlo altrimenti se volete lasciare la pagina in A4 verticale andiamo avanti allora abbiamo detto che creeremo una partitura di quintetto di archi e pianoforte vi faccio vedere l'esempio quindi creiamo un spartito come questo quindi vediamo che dobbiamo creare gli archi e quindi qui abbiamo le categorie degli strumenti praticamente le famiglie allora dobbiamo prima scegliere la famiglia in questo caso gli archi e a destra praticamente appaiono tutti gli strumenti ad arco quindi vediamo il violino primo quindi basta fare doppio clic sul violino e vedete che lo strumento va qui incolonnato a destra c'è un violino secondo quindi riclicchiamo sul violino e vedrete che automaticamente poi in partitura apparirà violino 1 e violino 2 poi doppio clic su viola, doppio clic su violoncello e poi andiamo a cambiare la famiglia, la categoria strumenti a tastiera e clicchiamo sul pianoforte vi faccio notare subito una cosa che l'incolonamento non è proprio esatto cioè il pianoforte lo ha messo sopra tutto invece il pianoforte deve andare giù quindi per portarlo giù nell'ordine clicchiamo qui sulla freccia giù dopo averlo selezionato e vediamo che scende fino al suo posto una volta fatto questo se è un ensemble che vi può servire anche in seguito potete salvarlo come nuovo ensemble e andarlo a prendere in quella prima pagina tra i vari modelli se invece no andate avanti allora qua si può mettere il titolo tranquillamente ora il sottotitolo è un sottotitolo abbastanza lungo come avete visto tra l'altro in tedesco quindi ora diciamo che scrivo a casaccio giusto per fare un sottotitolo ecco così poi compositore johannes brams e sta scritto virgola op 34 punto quindi ho copiato esattamente dall'originale arrangiatore paroliere non c'è niente al posto del copyright in basso io sull'originale vedo scritto un codice che è 10080 e scrivo questo al posto del copyright avanti ecco qua allora qua dobbiamo scegliere il tempo ed è C la tonalità sono 4 bemolli però è fa minore quindi seleziono tonalità minore ora dipende da quante battute di quante battute è fatto questo spartito quindi vi regolate di conseguenza poiché quello che io devo copiare è semplicemente una pagina fatta da 8 battute più la battuta incompleta all'inizio la misura in levare quindi è 8 qua possiamo specificare un'indicazione di tempo che nell'originale è allegro non troppo però questa cosa si può fare è solo se legata all'indicazione metronometrica poiché non c'è sull'originale allora io non lo specifico qui ma lo andrò a mettere in un secondo momento specifica la misura in levare questa è una cosa molto comoda perché se c'è una misura in levare io posso già metterla qui infatti c'è c'è ed è una semi minima quindi clicco sulla semi minima fine ecco che c'è la creazione di tutta la struttura già formata in gruppi come vedete il gruppo degli archi il gruppo del pianoforte con i nomi scritti anche abbreviati ed è quindi tutto ora naturalmente tutto va impaginato tutto va scritto chiaramente tutta la musica e fatti poi tutti i cambiamenti che servono per rendere e copiare in maniera proprio identica all'originale però la procedura dell'impostazione guidata è questa così potete fare con qualsiasi tipo di struttura di partitura è tutto è tutto qui ci vediamo al prossimo tutorial e ricordatevi sempre di iscrivervi al mio canale se vi è piaciuto un bel mi piace e mi raccomando attivate la campanella ciao ci vediamo la prossima volta ciao 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 ciao